Io a tutti ragazzi e ben ritrovati ad una nuova puntata di BTC Oggi grazie al consiglio da parte di un nostro utente, ovvero sia Michele Iniziamo una nuova rubrica, o no no, una nuova serie no perché non è una serie Una nuova rubrica che si chiamerà Rage Rage nasce con un semplice scopo, ovvero sia racchiudere dentro tutti i gameplay Tutti quei cazzo di giochini di merda in cui una persona non può far altro che incazzarsi a morte E bestemmiare manco avesse i santi vicino casa Inoltre devo ringraziare Michele anche per l'intro di questa nuova rubrica Che francamente a me piace e che spero di usare il più possibile nel corso delle puntate Ed iniziamo la nostra prima puntata con un giochino che mi è stato consigliato proprio dal nostro amico Michele Ovvero sia Flappy Bird Non essendo io una personcina a modo che si fa trasportare dalle mode Non so un cazzo di questo gioco, quindi mi dovrò informare now su wikipedia Allora, Flappy Bird è un videogioco per telefono cellulare Ok, e questo già era una delle poche cose che sapevo È un videogioco a scorrimento che utilizza una grafica molto semplice in stile anni 80 Che ricalca quella di Super Mario Bros E già ci piace L'obiettivo è quello di far volare un uccello attraverso una serie di tubi Il Bird quando non riceve comandi cade verso il fondo dello schermo E l'unico modo che ha il giocatore per manovrarlo è quello di premere ripetutamente sullo schermo Per fargli sbattere le ali e farlo sollevare Il giocatore guadagna un punto per ogni set di tubi attraversato Ad ogni pressione sullo schermo corrisponde un solo battito delle ali Che comporta un innalzamento minimo Il che rende il pennuto molto sensibile ai movimenti Motivo per cui il gioco risulta piuttosto difficile Poi, leggendo su wikipedia, ho notato anche un altro piccolo paragrafo Che si chiama Il ritiro Nonostante il gioco procurasse a Guyen Circa 500.000 dollari al giorno E' stato ritirato dal commercio il 10 febbraio del 2014 Ed è un gioco del 2013 Dal suo autore Che ha dichiarato di averlo fatto per lo stress causato gli dall'eccessivo successo dell'applicazione Ma che cazzo Quindi, queste erano le note tecniche di questo giochino Che noi troveremo comunque su internet Come molti altri Vediamo cosa ci aspetta Vai col gameplay Molto bene Iniziamo questo gameplay E... Sì Come si può già vedere Sto merda di piccione Ha bisogno più di una botta per volare Eeeh E' stressante Soprattutto a computer immagino Perché Cazzo Devi stare constantemente a premere su sto micia di tasto destro No, anzi sinistro Scusate E... Dai Dai Non dico tanto Non so se a livelli poi Ma... L'unica cosa che diceva era che Ogni tubo che passa ti dà un punto Intanto il mio miglior risultato è stato 4 Perché ho voluto fare una partita di prova Dai 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 che ce la facciamo Dai 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 Non cadere Vai Vai Dai Papara 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 Passo tra i tubi Siamo a 3 Eravamo a 3 Ad uno dal mio record personale Oltretutto Dai 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 No No Sto morendo dentro Sto morendo dentro Da E si ancora più in alto la prossima volta E' stronzo sto gioco Cazzo Dai 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 E che palle Dai Scusate se sono un po' zio Cioè se non parlo troppo ma Ci vuole concentrazione per sto giochino del cazzo Dai 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 E questo E questo merda di gioco ha fatto Successo eh Cioè adesso io non voglio offendere Nessuno Però Francamente Dai Ragazzi Dai Non si può Non si può Non Si Può Dai 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 Ce la farò ad arrivare almeno a quattro Non dico tanto Almeno a quattro Almeno a quattro Dopodiché mi posso reputare soddisfatto Dai Attimo di calma Ok Sono bello rilassato Adesso vinciamo Dai 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 No Dai No No Michele Non precipitare Stai calmo Stai calmo Dai Stai calmo Dai No Michele Io ti sto odiando Ti sto veramente odiando Io ho vissuto tanto bene Senza sapere dell'esistenza Di questo gioco No Ma qualcuno Penso di aver spaccato un muro con una testata Cazzo Dai Concentrazione Massima Ce la faccio 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 Non ce la faccio Dai Dai Piano piano Dai Un colpettino alla volta Tic No Tic 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 Dai Dai Sì 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 No Dai Canto cazzo Devi essere bastardo Sto diventando pazzo Sto veramente diventando Scemo e pazzo Che sono Mmm Per questa cosa Basta No Io Io almeno a 4 ci devo arrivare Non È il mio obiettivo di questa Fortuna puntata Almeno a 4 devo arrivarci Dai Uno E va a fanculo a mammata Uno Uno E va a fanculo assorata Va a fanculo a fraita Sto facendo tutta la famiglia eh Annonnata Uh 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 Sì Sì 4 Sì Sì E questo ragazzi Era il gameplay di Flappy Bird Io sono Distrutto Ve lo posso assicurare Sono distrutto Ho dei capelli che fanno cagare Mi perché Mi sono messo le mani in testa Troppe volte E devo essere sincero Un fottuto gioco Sono pure a dieta Quindi non posso mangiare dolci Non posso mangiare nessuno tipo di merda Fate una colletta Regalatemi uno yogurt Non lo so Vedete voi Decidete Poi si vedrà Io intanto sto sparlando Perché non sto più capendo niente Sono nervoso E con questo È tutto per questa prima puntata di Rage Michele Ti adoro per l'intro Ti adoro per tutto il resto Ma ti odio per avermi consigliato questo gioco Un saluto dal vostro Kiba Alla prossima puntata Ciao ragazzi Tanto scoprirò dove abiti prima o poi Oggi Grazie ad un consiglio Ed iniziamo Ed iniziamo la nostra prima puntata Con un Sono grandi Chiene rinvincibili